Per partiti, seconda corsa in programma, premio Neovet Bio riservata a puro sangue arabo. Dopo i 300 metri Rio dei Loi e vado a affiancare Rovo di Chia che ha preso il comando delle operazioni e l'ho steccato. Rosa di Chia in terza posizione e Fico a ridosso. Inizi dalla prima piegata dove Rio dei Loi si porta a condurre scegliendo percorso esterno, mantiene la seconda posizione, Rovo di Chia avvicinato ora percorsi esterni da Fico. Gruppetto molto compatto a metà della retta opposta dove il grigio Fico cadenza all'andattura per portarsi al comando, Rio dei Loi. Mantiene lo steccato, i due viaggiano in coppia con Noh in terza posizione, Rovo di Chia ed il numero 4 Rosa di Chia. Ultimata la retta opposta inizia la piegata conclusiva dove inizia piano piano ad accompagnare Gabriele Opens il suo Fico all'esterno. Inizia anche Manuiddu con Rio dei Loi, i due si presentano indirittura ancora in coppia con il percorso esterno per Fico mentre prova a cambiare marcia Rio dei Loi che inizia a staccare ma non cede Fico che torna all'esterno. Rio dei Loi risponde ancora agli attacchi per mantenere una comoda lunghezza di vantaggio Rio dei Loi che viene a vincere su Fico. Al terzo posto il numero 5 Rovo di Chia e al quarto il numero 4 Rosa di Chia. Si attende l'ordine ufficiale.